buongiorno collazione sul lettone di sfatto sopra uno chalet crocet quanto mi è piaciuto farlo questo chalet crocet crocet come si dice nei paesi latini granchio il ganchio ganchio e il crocet ah impariamo lo spagnolo qua è seguendo il tutorial perché devo dire che nei paesi latino americani a uncinetto ci sanno dare tutte queste cose macro 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 e poi se vogliamo trovare delle cose micro 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 andiamo dall'altra parte del mondo andiamo nei paesi dell'est in russia sono meticolose precise che meraviglia spaziare così tanto io questo momento sono per il macro 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 perché ci vedo un piffero 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 e quindi fa fatica però ecco quello che cerco di impegnarmi a fare nel crocet è di scegliere filati magari inusuali ecco come in questo caso intravedete sotto ciao e allora qui si intravede che cosa è un fiammato il lino e seta è un fiammato il lino e seta i filini non troppo ritorti tra loro e con effetto bottonato tono su tono e poi gli ho abbinato assieme un capo di lino finissimo dell'inificio canapificio nazionale grezzo non tinto né candeggiato ecco e mi piace perché ha la mano vischiosa ma anche setosa in alcuni punti è scrucchiarello cioè suona tra le mani è spugnoso suona canta proprio è anche morbido non punge assolutamente sulla pelle nuda a momenti di lucentezza e momenti di opacità a disegna dei bellissimi rilievi ci si incanta più a seguire i rilievi che i punti creano grazie alla fiammatura molto evidente e questo è quello che mi piace e che possiamo ottenere proprio con il crocet più che col tricò in questo caso ed ecco che il crocet diventa come si può dire perché spesso diciamocelo l'uncinetto negli scialli rischia soprattutto se utilizziamo dei filati grossi di diventare piuttosto no rozzo non so come spiega a volte mi viene il termine a volte mi scappa ecco meno elegante diciamo della della maglia parlo con i filati grossi è perché ovviamente ci sono dei merletti a crocet con i filati sottili che sono delicati certo che sono due tecniche diverse i risultati sono diversi anche le opportunità di motivo e la velocità di esecuzione di uno e dell'altro ecco poi ve lo farò vedere meglio adesso faccio colazione questa mattina ho fatto delle specie di pancake di farina di castagne dove siamo molto così senza uovo e dove nella farina ieri sera avevo già aggiunto farina di semi di vino e poi semini di chia questa mattina ho avuto la sorpresa di trovarmi una pastella bella cremosetta quasi gelificata gelificata quasi non era proprio un gel è proprio cremosetta ho aggiunto un ciccinino di lievito per dolce adesso me li vado a pappare quindi ci sentiamo più tardi ciao 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 ciao